Sarà una fiera di San Michele con cuore e gusto, in prima linea la Proloco. Sì, cuore e gusto, 100% siciliano, verso l'Expo 2015. L'amministrazione ha dato in carica alla Proloco di organizzare questa esposizione di prodotti di eccellenza del territorio, ma non solo di Caltanissetta, ma di tutto il territorio nisseno. Come molti sanno, il prossimo anno sarà l'anno dell'Expo, che è un evento internazionale importantissimo, e il nostro territorio non poteva mancare. Saranno esposte e sono stati chiamati. Quanti hanno prodotti alimentari di eccellenza, perché il tema dell'Expo, che è nutrire il pianeta, naturalmente è mirato all'alimentare. Abbiamo già più di 50 espositori, organizzeremo questa cosa all'interno della Villa Amedeo. e il 27, 28 e 29 di settembre, insieme alla Fiera di San Michele, sarà un appendice alla Fiera. Inizierà sabato pomeriggio con l'inaugurazione alle 18.30 e si concluderà la sera di lunedì di San Michele. È un'importante manifestazione, un primo passaggio verso l'Expo, che già comunque la Proloco aveva fatto a ottobre del 2013, con un convegno e siamo contenti che ci si prepara per riportare non solo i nostri prodotti genuini all'Expo 2015, ma può essere una vetrina per esportare le bellezze culturali e patrimoniali del nostro territorio in modo da essere punto di attrazione per il turismo. Questo è un territorio che si conferma con grossa eccellenza enogastronomica? Si, si conferma. Diciamo che oggi l'alimentare e la nutrizione del pianeta è un grande tema, importantissimo, perché l'aumento della popolazione continua in modo esponenziale, naturalmente ci pone davanti a dover decidere quale tipo di alimentazione e qual è l'alimentazione più genuina per l'uomo in quanto tale. L'Expo sarà un momento importante di dibattito su questi temi. Noi che siamo stati per tanti anni, diciamo, come dire, la culla del grano, perché abbiamo le olive, abbiamo le mandorle, quindi prodotti di grande qualità e molto genuini, possiamo e dobbiamo giocare un ruolo importante. La Sicilia ha già un suo spazio prenotato all'Expo e noi saremo all'interno di questo piano regionale siciliano con le nostre qualità eccellenti e le stiamo valutando e le esponiamo attraverso questa anche nostra manifestazione di settembre.